Emanuele Severino è stato, oltre che il mio maestro, e di questo lo ringrazierò sempre perché mi ha insegnato tutto, è stato uno dei più grandi protagonisti del pensiero contemporaneo. Severino non è meno importante di Heidegger, non è meno importante di Wittgenstein, non è meno importante di Nietzsche, uno dei pochi che rimarrà nei secoli a venire. Perché? Perché Severino ha saputo disegnare uno sguardo capace di comprendere tutta la storia della filosofia all'interno di un unico significato, che lui chiama nichilismo. Il pensiero dell'Occidente è nichilista, ma il senso che dà Severino al concetto di nichilismo è ben diverso da quello che al nichilismo danno Nietzsche, Heidegger e molti altri filosofi del nostro tempo.